La mia concreazione si chiama Restore di Santa Teresa di Liscia, che è una comunità rinocetana. Prima non capivo tanto bene questa vita che viviamo e poi l'argomento sulla consacrazione veramente per me è una cosa molto importante e preziosa. Quindi volevo approfondire ancora un pochino e poi questi due giorni soltanto per me è un inizio e poi io vorrei sentire qualcosa di più. Ieri ho sentito, però su dimensioni biblici, tre cose, soprattutto profezia e poi sapienza per me e mi ha colpito tanto. Nel corso abbiamo studiato il Magistero di Papa Francesco, che è stato fatto proprio, e poi dal Magistero di Papa Francesco abbiamo studiato qualche... Lui parlava sempre, sempre di un incontro con il Signore, di una povertà, eccetera. Però questa mattina ho scoperto una cosa nuova. Lui ha parlato della pazienza. Questo veramente io mai ho sentito dire da lui, quindi mi ha colpito.